Nome? Fabio. Nome? Giuseppe. Cognome? Scarpelli. Cognome? Di Piero. Sesso? Maschio. Sesso? Maschile. Sei sicuro? Sì. Sei sicuro? Certamente. Tre aggettivi per descrivere il tuo amico? Simpatico, bello e affascinante. Tre aggettivi per descrivere il tuo amico? Gli stessi. Un consiglio? Un consiglio? Ci dobbiamo fare troppe donne. Venite a Barri Blu per cosa? Per vedere le ragazze e per fare shopping. Venite a Barri Blu per cosa? Per fare shopping. Il tuo negozio preferito? Zara. Il tuo negozio preferito? Dai direi Zara. Tra i due chi è il lati lover? Lui. Il mio socio. Tra i due chi è il lati lover? Un po' io e un po' lui. Avete mal litigato per ragazze? No. Avete mal litigato per ragazze? No. Se dico a Barri Blu a cosa pensi? Ragazzi. Se dico a Barri Blu a cosa pensi? Ah, tante donne ragazzi. Dedicali una canzone. Dedicali una canzone. Witz Khalifa. Lo vogliamo sentire? Eh. Tra i due chi è il più intelligente? Io. Tra i due chi è il più intelligente? Io. In nome dei sette nani? Eh. Prendilo, mollalo, giocalo. Chi ha scritto il 5 maggio? Il 5 maggio. Chi ha scritto il 5 maggio? Passaparola. Chi ha scritto il 5 maggio? La data di nascita di Mussolini. Una dimostrazione di affetto. Avevo qualche dubbio? Forse, non si sa. Una dimostrazione di affetto. È il massimo che sapete fare? No, è un braccio. Salutate Barri Blu? Ciao Barri Blu. Cosa pensate di ottenere con questa intervista? Certo. 100 euro o 500 euro? 500 euro. 500 euro. Fai qualcosa per farti votare? Eh. Votatemi. Ma guardando la camera, non guardando le persone. Votatemi perché siamo due ragazzi prorompenti. Non guardando le persone. Votatemi. 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 Votatemi.